Salve amici e amiche mie, buona giornata a tutti e benvenuti alle ricette di Zia Franca. Oggi prepariamo insieme i miei dolcetti molto molto sfiziosi e naturalmente molto molto buoni. Sto parlando delle sfogliatine con panna e fragole. Sì perché adesso è primavera e quindi tempo di fragole. Non perdiamo questa occasione quindi iniziamo subito la preparazione perché come ho detto prima è semplicissima e quindi non lo so ci farà fare bella figura con dei nostri amici oppure i nostri figli. Per questa preparazione abbiamo bisogno di pochi ingredienti come ho detto prima. Quindi di un rotolo di pasta sfoglia, della panna fresca per dolci e delle buonissime fragole. Niente di più. Quindi adesso iniziamo la preparazione. Steso il foglio di pasta sfoglia, adesso con una coppa pasta o una ciotolina, insomma quello che voi preferite, quello che avete a disposizione. E poi la dimensione naturalmente la decidete voi più piccola o più grande in base al foglio. Ok? Allora, adesso andiamo a formare dei dischi così. Magari aiutandoci un po' con la punta di un coltello e andiamo a incidere. Ed ecco qui il primo disco. Una volta preparato il disco, non dobbiamo fare altro che richiudere su se stesso, come un sofficino. Ecco qua. Lo chiudiamo. E lo mettiamo qui su una placca da forno, in questo modo. E continuiamo con tutti gli altri. Per la serie che non si butta via niente, ho utilizzato anche un po' gli scarti, diciamo, no? E sono venuti fuori delle piccole sfogline che faremo cuocere e gusteremo insieme alle altre. Quindi andiamo a fare così. Un qua. E adesso, prima di infornare, io spennello la superficie con un po' di latte. Ed ora subito in forno. Intanto che le sfogline cuociono, taglio a pezzettini le fragole e monto la panna. Naturalmente di frigo, mi raccomando, non usate la panna a temperatura ambiente perché magari avrete difficoltà poi nel montare. Tagliamo il picciolo. Naturalmente sono state già lavate e pulite. E adesso io le faccio così. Le faccio a pezzettini piccoli. Le fragole sono state tagliate e ne lascio qualcuna a parte per la decorazione. Io sto utilizzando della panna fresca e quindi aggiungerò un po' di zucchero. Se voi invece preferite la panna vegetale, quella è già zuccherata, quindi non c'è bisogno di aggiungere lo zucchero. Le sfogliatine sono uscite dal forno, le infornate a 200 gradi per 15 minuti. Forno ventilato. Se avete il forno statico, aumentate di qualche grado la temperatura. Ed ora non ci resta che farle raffreddare e poi farcirle. Ed ora assegniamo gli ingredienti. Quindi uniamo le fragole alla panna. Mescoliamo bene il tutto. Benissimo. Adesso non ci resta che fare un'incisione alle nostre sfogliatine. Così. Le allarghiamo dolcemente, piano piano. Così. Senza farle rompere. E come vedete ho trasferito il composto in un sac à poche. E in questo modo si faciliterà il riempimento appunto delle nostre sfogliatine. E in questo modo. E completiamo tutti gli altri. Farcite le nostre sfogliatine. E adesso io completo la preparazione con un pezzettino di fragola. Così. In questo modo. E per finire una scorberizzata di zucchero al vino. E con questo buonissimo dolce io vi saluto. Vi aspetto alla prossima ricetta. e come dico sempre vi do un abbraccio, un arrivederci e un grazie a tutti. Da GFranca.